Gentilissimi tutti, io sono Marta Codric, assenista di ricerca presso il Laboratorio di Biologia Molecolare e Riparazione del DNA, diretto dal professore Gianluca Tell presso l'Università degli Studi di Udine e oggi vi parlerò dell'utilizzo di modelli cellulari per studiare l'invecchiamento. Quando si parla di invecchiamento ci si riferisce a quell'insieme di modificazioni regolari che avvengono in organismi geneticamente maturi, i quali vivono in condizioni ambientali tipiche man mano che procedono con l'età cronologica, come postulato da Birre negli Ux. Tuttavia durante lo scorrimento del tempo le varie caratteristiche individuali non si modificano tutte con la stessa velocità e con lo stesso andamento. L'invecchiamento quindi è una serie complessa di modificazioni differenti che possono assumere quadri ben distinti tra individuo e individuo. Si fa riferimento quindi a un'età biologica al fine di tener conto questa grande variabilità individuale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'invecchiamento biologico è definito dall'accumulo di un'ampia verità di danni molecolari e cellulari che avvengono nel corso del tempo. Ciò porta a una graduale diminuzione delle capacità fisiche e mentali, a un rischio crescente di malattie e infine di morte. Questi cambiamenti non sono né lineari né costanti e sono solo vagamente associati all'età cronologica di una persona. È quindi facile intuire, da quanto detto, come un soggetto di 50 anni abbia un'età cronologica ovviamente superiore a quella di un soggetto di 40 anni, ma non è detto che il primo abbia necessariamente un'età biologica superiore al secondo. Per esempio, un cinquantenne sportivo, normopeso, non fumatore e sano avrà un'età biologica probabilmente inferiore ad un quarantenne sedentario, obeso, diabetico e fumatore. Quindi si fa riferimento all'età biologica come al parametro più obiettivo e realistico in base al quale valutare le condizioni di invecchiamento dell'organismo rispetto all'età cronologica. Al fine di studiare tutte le variabili che possono incidere sull'età biologica di un individuo, i ricercatori si avvalgono di modelli cellulari bidimensionali e tridimensionali. Le culture cellulari bidimensionali sono un modello sperimentale in vitro molto semplice di cui viene utilizzata una superficie piana artificiale per far crescere le cellule. Mentre le culture cellulari tridimensionali sono un modello sperimentale in vitro più complesso in cui viene utilizzata una matrice artificiale che imita gli ambienti nativi delle cellule. Le culture cellulari tridimensionali vengono chiamate anche organoidi, ma che cos'è un organoide. In parole semplici è una versione in miniatura di un organo in provetta. Per gli addetti ai lavori un organoide è una versione miniaturizzata e semplificata di un organo prodotto in vitro che mostra una microanatomia realistica. Nelle culture bidimensionali il comportamento delle cellule non è paragonabile a quello che succede in vivo, mentre le culture tridimensionali sono emerse come sistemi in modello promettenti per lo studio dei tessuti. Se da un lato gli organoidi sono meno complessi dell'organo dal quale derivano, dall'altro sono verosimilmente più rappresentativi rispetto a una cultura tradizionale di cellule cresciute su una piastra in un unico strato. Difatti le caratteristiche principali degli organoidi sono il mantenimento della morfologia e della funzione dell'organo di origine, l'autorinnovamento, l'autorganizzazione e la presenza di cellule differenziate. Con le recenti scoperte tecnologiche gli organoidi sono arrivati a rappresentare un'approssimazione più fisiologicamente rilevante dell'ambiente in vivo. Ad oggi i ricercatori sono riusciti a ricreare mini organi di svariati tessuti come polmone, mammella, apparato genitale femminile, sistema urinario, sistema digerente, fegato e cervello. Il loro potenziale utilizzo varia dai modelli di infezione e screening della tossicità ai test per farmaci, alla medicina personalizzata e alla medicina rigenerativa. Gli organoidi inoltre sono tra i modelli di studio più promettenti nella ricerca oncologica. Vi ricordo infatti che l'invecchiamento è il fattore di rischio più elevato per malattie associate all'età, come il cancro. I meccanismi alla base dell'invecchiamento sono complessi ed eterogeni e possono comportare caratteristiche specifiche del paziente. Per questo motivo è importante la medicina personalizzata. Nel dettaglio il gruppo di ricerca di cui faccio parte è riuscito a sviluppare un modello tridimensionale di organoidi intestinali derivanti da paziente ed abbiamo effettuato uno studio omico che ha compreso un'analisi genomica, trascrittomica e proteomica. Gli organoidi intestinali sono inoltre un ottimo modello per studiare le alterazioni dovute ai fattori ambientali direttamente associati all'invecchiamento. Nel dettaglio siamo riusciti a dimostrare come gli organoidi derivanti da pazienti affetti da tumore al colon possono essere utilizzati non solo per lo studio della biologia del cancro del colon retto, ma anche per individuare nuovi biomarcatori, fare screening di nuovi farmaci e stabilire in un futuro prossimo la terapia migliore da somministrare a un paziente nell'ottica di una medicina personalizzata. Infine le linee cellulari di tumore al colon e gli organoidi generati da pazienti affetti da tumore al colon verranno utilizzati per capire i meccanismi molecolari dell'invecchiamento ed attuare strategie di prevenzione mediante farmaci senolitici nell'ambito del progetto Old Frailty in collaborazione con la professoressa Caligaris e la dottoressa Melchior. In particolar modo le culture cellulari sono state utilizzate per studiare l'effetto della quercitina incapsulata all'interno di liposomi. Vorrei ringraziare il professor Tell e tutto il laboratorio di biologia molecolare e riparazione del DNA ed infine ovviamente tutti voi per l'attenzione.